Oggi in gru giro con un bel gruppettino ritorniamo rivederci direzione sassi di Rocca Malatina, a presto! E' da dove vengo? Dalla montagna! Ciao Paolo! Ciao Dabbi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene Paolo, siamo arrivati a Ospitaletto, adesso ci buttiamo verso Marano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.